Dopo Sangue sul Sole, il film di guerra con scene di arti marziali ante Littram, ecco un altro stranissimo, stravagante esempio di anticipazione di quello che poi avremmo visto nei film di Kung Fu, Lampi nel Sole, e incidentalmente c'è il sole in entrambi i titoli, solo che stavolta questo era un western di serie B, standard, storia di un gruppo di coloni di baschi francesi provenienti dai Pirinei per impiantare un vigneto in una terra americana, quindi la colonizzazione, ingaggiano una guida interpretata dal bravissimo e purtroppo scomparso giovane Jeff Chandler, che morì poi per un incidente banale di mala salità, mentre lo operavano per un'ernia, l'hanno fatto morire dissanguato, poverino, insomma loro attraversano il territorio infestato dagli inghiani e poi a un certo punto durante la battaglia, incredibilmente nel 1959, tu vedi i salti del Kung Fu fatti dai baschi francesi, perché il loro modo di combattere consisteva nel saltare fra le rocce a piedi nudi facendo un urlato, un urlo felino simile a quello di Bruce Lee, quindi un'altra anticipazione, un'altra coincidenza e poi di salto in salto, di roccia in roccia, piombare con i loro calci micidiali e travolgere gli indiani. Questo fatto in un western del 59, ossia molti anni prima che invece venissero codificati i salti acrobatici del Wusha Pian e poi del Kung Fu Pian da questo signore qui, che era l'inventore dei trampolini nascosti per fare quei salti, ma che in questo western già c'erano, c'è esattamente quel tipo di sequenza, uguale, identica, ma fatta prima e prima ancora che nascesse il genere marziale come lo conosciamo noi, in cui tu vedi una distesa di rocce, vedi l'uomo che salta dietro una roccia, poi rispunta fuori saltando, salta, salta e colpisce esattamente come nei Wusha Pian e questo ripeto in un film del 59 che per questo motivo quando io lo vedi, quando ci avrò avuto 12 anni, 13 anni in televisione, rimasi a bocca aperta perché il film era quello che era, ma io che già ovviamente vedevo i film del Kung Fu non mi aspettavo di vedere i salti del Kung Fu in un western fatto per di più prima che il cinema del Kung Fu moderno nascesse, Lampi nel sole Lampi nel sole